Ciao a tutti amici di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Civilization 6. Nello scorso episodio ne sono successe tante, ma la cosa forse più interessante è stata la guerra contro Tomiri, che ormai è rotolata nell'ultimo posto in classifica dopo essere stata sconfitta, ma non con una guerra convenzionale, ma bensì con una guerra che abbiamo fatto anche utilizzando la lealtà. Infatti abbiamo fatto ribellare moltissime città e alla fine le abbiamo conquistate con davvero poca fatica. Quello che adesso andiamo a fare, quello che adesso è importante fare, dovremmo cercare di ottenere il più velocemente possibile punti di vittoria diplomatica. Andare verso la tecnologia dei Seastead ci garantirà un punto e questo è importante. Andiamo a vedere poi le rotte per loro qui, Rachedet è perfetta, e a Kamianca possiamo andare a costruire qualcosa di nuovo direi, sì perché no. Potremmo tentare di fare, il campus già ce l'abbiamo, un porto forse, un porto forse è una buona idea. E ok, andiamo a riparare molto presto, probabilmente il prossimo turno conquisteremo anche con Stromskaya. Ok, oppure riesco a bombardare adesso? No, dovremmo aspettare un turno, facciamolo. E qui abbiamo una spia, che è Eric, ingegnere allo spaziale, linguista e guidatore provetto. Lo iniziamo ad andare in Cina. Perché in Cina? Perché dobbiamo andare a sabotare la produzione della colonia marziana, perché altrimenti i cinesi vincono molto velocemente. Andiamo a Shurong, sono nostri alleati ovviamente, per questo motivo dobbiamo stare attenti, ma Shurong, Palenque, Andran e Xian hanno tutti degli spazioporti. Confermiamo il posizionamento. E per questo motivo dobbiamo fare il possibile per evitare danni. Ok, non andiamo immediatamente al turno successivo, perché c'è la possibilità di comprare una rotta commerciale, lo facciamo io in Köping, questo poi andrà verso l'Egitto. E non appena avremo qui Liang, compraremo un paio di lavoratori a Kuloba, perché qui abbiamo l'alluminio e poi dobbiamo fare tutte le varie, come si chiamano, i vari pescherecci e i vivai. Volevo mostrarvi questa cosa che ho guardato fuori dalla registrazione, Qin Shi Huang ha già i satelliti, ha già sbarcato sulla Luna, quindi quando lancerà la colonia marziana inizierà veramente, iniziamo veramente a sentire il fiato sul collo. E dal momento che abbiamo perso, purtroppo, molti punti importantissimi per la vittoria diplomatica, e visto che la sfida dice che non posso tentare nessun'altra vittoria, devo iniziare a sabotare e a pensare davvero a come spingere. Seguendo i nomi di pochi aumentosi, la Svezia circunnaviga il mondo, ok, più 4, non male. Ora, io vorrei fare una promozione di aerei, ma vedo che non ho il tempo di farlo, quindi continuiamo a bombardare. E adesso utilizziamo anche i carri per conquistare completamente la città. Sembra difficile in realtà, sembra davvero difficile, ma dovremmo farcela, dai. Dobbiamo farcela. Yes, è andata. Tiene la città, anche questa Roscaria adesso è nostra. Voglio vedere se ci sono meraviglie. A Chertomlik c'è il Taj Mahal. Qui non c'è nulla, ok. E poi c'è anche il Tempio di Artemide. Sono meraviglie che ormai non ci aiutano più di tanto. Orebro, bene. Potrebbe fare un canale che unirebbe il lago... No, non voglio farlo. Un aerodromo non sarebbe male, volendo. Non ne sono certo. Ho la possibilità di fare una nuova spia? Non ancora, ok. Però posso fare un nuovo commerciante. Facciamo... Facciamo un laddore, però allora, va bene. Logistica è andata. Continuiamo qui con... Ah no, adesso dobbiamo iniziare le richieste di aiuto di Harald. Questo è fondamentale. Questo è fondamentale. Adesso ci buttiamo soltanto sulle richieste di aiuto di Harald. Perché l'altra sfida dell'esposizione universale l'abbiamo fondamentalmente persa. Con Stronskaya però deve... Gesù mio. Deve cambiare. Abbiamo altro da fare, scusate. Abbiamo moltissime cose da riparare. Ok, adesso che abbiamo le nostre spie qui in Cina. Vediamo, potremmo contattare gli informatori come se avessimo due livelli in più. Oppure sabotare. Iniziamo immediatamente la sabotazione dello spazio porto per farlo fuori. Questo è veramente fondamentale. E quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di farlo. Quest'altra spia deve fare esperienza. Vediamo di metterla sempre in Cina comunque a Palenque. Confermiamo il posizionamento a Palenque e cerchiamo di sabotare questa città. Poi che cosa abbiamo? In attesa di ordini questa... Ah! Qui avevamo la necessità di fare, come si dice... di abbattere, di fare delle ribellioni. Sapete che cosa c'è? Spostiamo anche questa spia. La spostiamo in Cina. Questa volta... A Xi'an. Scusate per il colpo di Tos. Bene. Fortifichiamoci. Prepariamoci ad attaccare Pazir, perché cadrà questa città. E che cosa sta succedendo? L'allianza con Pietro è aumentata. D'accordo. E con l'aiuto delle spie abbiamo scoperto praticamente Ginevra, che era una nuova città. Stato. Moino d'Aro. Tutte città e stato che potremmo tentare di... di... di, come dire... di alleare. Avanti, dai! Comunque la Cina è molto, molto avanzata con la scienza e la cultura, ma non è così espansa dal punto di vista del territorio. Quindi, se facciamo saltare questi quattro spazioporti, la rallenteremo in un poco. Il problema è riuscire a farli saltare tutti. Ok. Per i piloti è quasi un rito di passaggio a terrare all'Aerodono di Stoccolma. E più inziani si ricordano di quando era ancora un piccolo hangar. Va bene. Perché adesso Stoccolma ha l'aeroporto e questa è tanta roba. Completato l'aeroporto, facciamo anche la borsa. Disposizione universale finisce fra due turni. E... Wow! Noi siamo sempre a 400 punti di distanza con la Cina, quindi la Cina guadagnerà un punto di vittoria diplomatica. Non ci possiamo fare niente. Abbiamo fatto il possibile, non ci possiamo fare nient'altro. È veramente un peccato, ma è così. È la vita. L'unica cosa che possiamo tentare di fare è di salvare le natiche di Harald in più in fretta possibile. Perfetto. Ancora un turno alla ribellione. Quindi curiamo le nostre unità perché dovremo cercare di prendere questa città il più in fretta possibile dove c'è l'Aja Sofia e il Monstrum Michel. Sono due meraviglie utili. Non fai altro che mentire, Tremieri ci denuncia. Ok. Intanto Paziric però è caduta. E come vedete è anche abbastanza debole. perché i cinesi l'avevano già ok, l'avevano già attaccata. Molti discutono sull'inizio effettivo dell'epoca dell'informazione e noi diciamo che è quando abbiamo inventato le centrali eoliche. Fantastico. Inoltre abbiamo sabotato i razzi in Cina. Molto, molto, molto. Bene. Ok. Una cosa alla volta. I bombardieri. Gesù. Dobbiamo spostarli. Non riusciamo a bombare direttamente Paziric, quindi dobbiamo fare adesso il possibile per evitare che qualcun altro prenda il controllo di questa città. Ragazzi. Ok. Computer laser, no tecnologia, lancia la colonna marziana. Tutto bene. Io ho bisogno dei C-State che dovrebbero essere questa tecnologia. Se vado a memoria visiva spero di non sbagliare. Poi controlleremo più avanti. Comunque adesso dobbiamo attendere. La mitagliatrice può bombardare però. Seppur poco. Ok. Sabotare qui mi costa tantissimo quindi devo stare attento. È molto meglio contattare l'informatore adesso per quattro turni. mentre lo spazio porto di Shurong è stato sabotato. Lo vedete qui. Quello di Xi'an lo saboteremo molto presto. Adesso noi ci spostiamo in un'altra città cinese che ha lo spazio porto. Scusate, nulla. Che è Handan. Confermiamo il posizionamento di Handan. Questo è lo spazio porto. Sembra che la Cina non stia lavorando la colonna marziana quindi iniziamo bene. Bene così. Handan project completato. Ottimo. Facciamo un porto internazionale. Possiamo costruire le bombe atomiche. Intanto questo è positivo. E suggerirei di semplicemente procedere e perdere l'esposizione universale da nazione. Cioè ci guadagniamo il secondo posto però il secondo posto non basta perché i cinesi si prendono un punto di vittoria diplomatica e salgono a 10 se non sbaglio. Quando noi abbiamo la votazione fra tre turni. e la cosa mi riempie di rabbia. Va bene. Le mie truppe stanno passandoli per caso. Non ti dichiarerò guerra. Avanti. che 13 rotte ci sono. Pazirik. Boom. E boom. E adesso conquistiamo anche questa città. E questa volta non la perdiamo. Tieni la città. Ottimo. E quindi adesso praticamente un altro pezzetto d'Africa nelle mie mani. prendiamo la nostra buona governatrice a mani e la riassegniamo proprio a Pazirik. Ci sarà d'aiuto. Inoltre voglio vedere i grandi personaggi. Possiamo recuperare un ammiraglio Gorshkov. Possiamo recuperare Von Braun che ci interessa relativamente poco e Tata che ci interessa relativamente poco. Niente. Continuiamo semplicemente allora a fare i nostri distretti e le nostre cose. Questi non ci danno nulla. Nessuno ci dà più i voti. Nessuno ci vende i voti neanche per scherzo. Ok. Fine. Visto che ci serve felicità andiamo dai nostri alleati a chiedere risorse. Perfetto. Questo dovrebbe bastare per un po'. Tono successivo. Invio aiuti da Malmò. Inviamone altri. Invio aiuti andato. Continuiamo a fare invio di aiuti. Ora che abbiamo davvero tantissima produzione. Questo è davvero fantastico. Infatti siamo già in prima posizione con 600 aiuti. mi chiedo se il zig possa essere come dire riaggiustata in termini di lealtà ma forse non ha senso. Non penso che sia necessario continuare a strappare la città ai lishiti perché davvero in tutta onestà non mi serve. Ok, intanto Liang si è posizionata e questo significa che adesso iniziamo a comprare costruttori e Axian possiamo iniziare il sabotaggio dei razzi attenzione perché qui è un po' più difficile quindi direi di posizionarci per quattro turni per studiare bene le varie cose mentre qui ad Andan posso prendere il rischio visto che la mia spia è specializzata nel sabotaggio avanti qui sarebbe una buona cosa tentare di vedere quando iniziano a costruire la colonna la colonia marziana sblocchiamo il governo della democrazia in estremo ritardo ma lo facciamo adesso le torotte commerciali dirette verso una città leata forniscono più cibo sconto degli acquisti sull'oro ma soprattutto la possibilità di avere più carte e che sono davvero importanti in particolare più abitazioni più attrattive in tutte le città con la meno tra distretti specializzati assolutamente sì e anche la whistlebank mi piace ok confermiamo chi ci vuole noi siamo argento quindi non abbiamo il punto di vittoria diplomatica una 50 supporto e due impulsi civici quindi se adesso andiamo a vedere nella vittoria globale e cinci one con 10 punti al terzo posto seguiti da me anzi al secondo posto seguiti da me Cleopatra al primo posto a pari merito e ora che cosa si fa maracanè è stato fatto già da un botto di tempo ora sono curioso cerchiamo di recuperare un po' le vede civiche rapidamente ok iniziamo con i vivai ma non solo ne compriamo un altro di costruttore d'accordo bene possiamo già andare al turno successivo ragazzi perfetto quindi un po' di spionaggio da un lato e un po' di preparazione dall'altro vediamo vediamo quello che riusciamo a combinare intanto abbiamo sbloccato grandi porzioni di mappa ne andiamo a vedere fra poco adesso si si guarda il congresso che è una cosa importantissima anche perché se adesso faccio il conto dei voti dei miei nemici loro arrivano e lo possiamo fare insieme a 1038 fatto adesso con la calcolatrice quindi se io voto qualcosa sopra la 1038 faccio passare qualsiasi cosa io voglia di conseguenza vittoria diplomatica andiamo a spingere fino a 1038 se sopra la 1038 perfetto 15 voti 1050 non possono fare di meglio non possono fare di meglio e mi rimangono ancora 260 voti allora il primo 9 per la fisica serve generare grandi ingegneri scienziati e mercanti questo dovrei essere in grado di farlo dopodiché vediamo sul patto se lo sfionaggio le spie che eseguono l'operazione prescelta funzionano come se avessero due livelli in più io chiaramente qui butterò tutto quello che posso su il sabotaggio sabotaggio produzione sbagliato sabotaggio dei razzi e ci butto qualcosa come 7 voti mentre invece per la politica sul lusso vediamo chi vota questa cosa Cleopatra Cleopatra che cosa vende di solito Cleopatra in nord america giusto non posso fare relazioni con lei ma che lusso ha Giada Tabacco andiamo qui allora diciamo che i duplicati del tabacco generano attrattiva possiamo dare 3 voti io spero che anche Cleopatra voti questa cosa in modo che così vinciamo anche questa risoluzione e guadriamo un punto vittoria in più spero di avere fatto le cose per bene che cosa manca premio 9 per la fisica l'abbiamo votato ok sabotaggio razzi tabacco devi votare su tutte le proposte questa l'abbiamo votata vittoria diplomatica per noi l'abbiamo votata politica sul lusso l'abbiamo votata ok posso andare su successivo e sabotaggio razzi con 7 avanti inviamo queste votazioni questa è una delle fasi più importanti della partita perché potremmo portare a casa moltissimi punti abbiamo guadagnato due punti di vittoria diplomatica abbiamo guadagnato il sabotaggio razzi abbiamo perso il tabacco abbiamo scommesso sul cavallo sbagliato ma poco male abbiamo va bene il vino vale di più e il primo nove per la fisica è stato approvato ritorniamo la partita ragazzi ritorniamo la partita perché adesso abbiamo il primo nove per la fisica che ci interessa relativamente ma scusate adesso devo andare a vedere siamo in testa con 16 punti ragazzi siamo passati da 12 a 16 punti abbiamo vinto 4 punti vittoria diplomatica con questa votazione è stato importantissimo è stato importantissimo guerra fredda scegliamo la produzione completate le difese esterne di Stoccolma facciamo un costruttore prima di tutto qui abbiamo un faro facciamo allora dove diamo lo sarà il cantiere vivaio e adesso con Stronscani abbiamo un accampamento un porto internazionale un acquario possiamo fare un po' tutto quello che vogliamo suggerire un costruttore anche qui sotto e se non sbaglio abbiamo fatto fuori anche questo questa stazione missilistica spazioporto si chiama cerchiamo di tutti adesso vediamo tutti gli spazioporti uno è andato uno è andato quello di Palenche va fatto fuori e attenzione perché qui c'è qualcosa qui c'è qualcosa che sta lavorando a Long Chi 10 turni da Corona Marziana ragazzi qual è la mia spia migliore? tu tu vai immediatamente tu vai immediatamente nella città di Long Chi dove dobbiamo sabotare questo razzo è una missione di fondamentale importanza questo commerciante lo possiamo cancellare perché non non ripartirà abbiamo soltanto 12 slot adesso con la democrazia ok la prossima votazione fra 30 turni e potrebbe essere la votazione della vittoria se riusciamo a mettere da parte abbastanza punti per votare rifiutiamo la richiesta però ragazzi 30 turni con la Cina che va in Colonia Marziana la vedo dura la vedo dura completato il costruttore a Stoccolma allora andiamo sui video aiuti e questo costruttore mi lavora finalmente il gas naturale ok e qui sabotiamo questo spazio porto anche se comunque a Palenche non serve ma intanto lo facciamo fuori porto internazionale completato inviamo gli aiuti continuiamo ad inviare aiuti finché non abbiamo raggiunto un buon livello per adesso siamo a 1399 stiamo scendendo con gli aiuti sì perché probabilmente generiamo CO2 e infatti infatti c'è la CO2 e questo inizia a dare qualche problema come facciamo a generare CO2 ma le centrali nucleari comunque inquinano anche se meglio del carbone e del petrolio però continuano ad inquinare e noi ne abbiamo due cosa? il nemico ha reclutato partigione a Stoccolma non ci voglio credere ci sono delle spie che stanno reclutando dei ribelli così dai pazzesco ovviamente dobbiamo usare le nostre unità per farli fuori interessante davvero ok 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 Shian potrebbe disattivare lo spazio porto quest'uomo in requetezza tra vestimenti e leader della guerriglia vai a sabotare lo spazio porto ma è a Long Chi dove abbiamo bisogno della nostra spia che arriverà fra un po' di turni se non sbaglio dannazione aspettate perché voglio vedere se ho la possibilità di richiamare un carro ad esempio tipo questo e portarlo a nord abbiamo manufatti in città nessuno lasciamo perdere ok recuperiamo il nostro lavoratore prima di tutto dopodiché continuiamo a bombardare il carro nemico molto facilmente ok perfetto 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 ok ora procediamo e a Long Chi andiamo a sabotare lo spazio porto abbiamo il 90% di priorità di riuscita in due turni questo dovrebbe mettere i bastoni tra le ruote della Cina pesantemente però speriamo di non avere la sfortuna di trovare il 10% perché potrebbe accadere anche quello intanto iniziamo a fare le borse di studio per i primi nove della fisica anche queste sono molto importanti ok perfetto tantissime tantissime missioni tantissime anche se siamo già in vantaggio e sulla richiesta di aiuto siamo a 2600 ed è davvero tanta roba vediamo se posso acquistare ad esempio una fabbrica che cosa si potrebbe acquistare no soltanto unità no grazie ho bisogno anche di strutture orebro mi può acquistare un faro e quindi un cantiere e quindi un porto internazionale e quindi anche qui adesso abbiamo a dove avrebbero un'ottima costa possiamo andare a fare un po' di pannelli eolici ok il carro rimane qui turno successivo comunque va bene l'insurrezione l'abbiamo distrutta con i bombardamenti e le truppe non è durata molto l'epoca tonica termina fra sei turni così come la nostra età dell'oro Karstadt che cosa mi puoi costruire perché no perché non un quartiere teatrale un po' la Las Vegas africana ormai potremmo dire questa due boost potrei usarli su queste pecore oppure andare a lavorare due fattorie per Karstadt che non è male come idea e con questa facciamo tre ok mentre lui scende a sud qui c'è del petrolio ok direi che abbiamo fatto quasi tutto avanti incrociamo le dita per il sabotaggio in Cina gli altri possono dire quello che voglio non va la guerra fredda ha cambiato bla 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 le spie nemiche ridotto di due nei tuoi territori il livello delle tue spie ha aumentato di uno le operazioni offensive la critografia va fatta assolutamente al posto della Wissenbank confermiamo e abbiamo sabotato ragazzi la missione spaziale cinese l'abbiamo sabotata questo è fantastico perché adesso Longshi che doveva fare la colonna marziana senza lo spazio porto è bloccata quindi dovrà andarlo ad aggiustare benissimo benissimo vediamo sul capitalismo forse di studio completate cosa mi hanno fatto saltare dobbiamo riparare la zona industriale perché non possiamo il sito è allagato dannazione ui 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 qui è un bel casino pazzesco ok spia ragazzi arrivano gli allagamenti questo è un casino permanente dannazione fai una promozione a questo ragazzo se questa spia è in territorio amico tutte le tue spie operano come se avessero un livello in più se questa spia è in territorio amico le spie nemiche nei tuoi territori operano come se avessero un livello in più eh qua c'è un bug ovviamente non possono operare come se avessero un livello in meno penso che intenda vabbè lasciamo perdere questo ha fatto proprio un bel lavoro ha fatto proprio un bel lavoro sono rimaste sono rimaste delle non lo so devo controllare se sono rimasti degli spazioporti non come si dice non toccati spazioporto cerca questo è bruciato questo lo dobbiamo bruciare a Xi'an e c'è già una spia che ci starebbe lavorando in teoria questo non è andato questo dov'è a Xi'an Sa se non sbaglio sì assolutamente conferma il posizionamento e avanti faremo saltare anche quello bene bene what? ragazzi Tolstai è diventata una città libera e diventerà svedese ok 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 d'accordo iniziamo i bombardamenti non mi aspettavo questa cosa ma ovviamente non dico di no e non mi lamento potenziamo il carro armato otteniamo un grande ammiraglio e anche dei voti il che non è male ok fantastico allora cosa succede? ok siamo riusciti a sabotare i razzi e a scappare quindi anche a Palenche abbiamo sabotato e io suggerirei adesso di spostarti tanto Long Si vedete che fa un carro armato vediamo se ci sono altre civiltà che stanno puntando la vittoria scientifica per ora no e a questo punto possiamo tenerlo qui e come missione sabotare la la zona industriale si tratta pur sempre di un sabotaggio cresce tantalmente un sottomarino con un livello di promozione fornisce una risorse di petrolio per turno più 20% vai ragazzi questo lo sfruttiamo ottimo qui abbiamo due bus che possiamo utilizzare andiamo a riparare l'avorio e poi qui facciamo una fattoria anzi no si fattoria e qui recuperiamo il petrolio avanti perfetto perfetto ok ho fatto una piccola pausa ma adesso riprendiamo io direi che ci facciamo l'ultimo turno per questo episodio ultimamente gli episodi stanno diventando sempre più lunghi ma ci sta visto che siamo praticamente in fase conclusiva e mi serve un po' di concentrazione mi serve tirare un po' le partite comunque adesso avanti tutta chi era che doveva prendere il petrolio questo completata la borsa di studio facciamone un'altra vediamo chi è prossimo ingegnere di corso allo spazio mi interessa relativamente poco molto meglio andare sugli scienziati a questo punto e gli invi di aiuto chiaramente facciamo così un po' e un po' ottimo io non penso che riusciranno a riprendersi la città se li abbombardo così ma spero di non aver fatto una sciocchezza qui ci fermiamo e adesso c'è un attacco a distanza ok scusate prima di salutarci però c'è una cosa importante da andare a guardare Cleopatra ha dichiarato guerra dove è dove è a Tomiri e Qin Shi Huang che adesso è in guerra contro Cleopatra questa cosa è particolarmente utile per noi perché se adesso il cinese inizia a produrre unità militare anziché a riparare i suoi spazioporti rallenterà abbastanza la sua vittoria scientifica e quindi noi avremo qualcosa in più una carta in più da giocarci per la vittoria di tipo diplomatico però lo vediamo nel prossimo episodio vi ringrazio per essere rimasti con me un saluto e alla prossima e alla prossima Grazie.